Buongiorno cari lettori e creatrici di Oran.net, sempre il direttore Fabrizio Noto e guardate chi vi ho portato dall'altra parte del video, signore e signori, sua maestà, come io lo chiamo, Fabio Tranquillo, buongiorno Flavio, è un vero piacere. Buongiorno a voi, ma non ho quarte di nobiltà. Flavio, io ti considero una persona che ha cambiato, ha rivoluzionato il modo di raccontare la nostra pallacanestro, ti devo fare i miei complimenti spassionati e sinceri per come riesci a rendere una telecronaca di un qualcosa che è sempre nuovo, ti devo fare i miei complimenti, riesci a dare delle chiavi tecniche, delle citazioni. Sei molto bravo, credo che forse tu lo sappia, però, come diceva Sacchi, quando una persona ti dice che sei bravo, ti fa piacere, quando te lo dicono in dieci comincia a essere un problema perché ci devi credere. Senti Flavio, dunque allora, di cosa si può parlare con te, se non primariamente, della tua direi cultura e conoscenza spaventosa del mondo più abbacinante che la nostra pallacanestro universale possa, quantomeno quello che noi conosciamo. NBA, dunque allora, dacci tre foto di questa stagione e poi ti faccio qualche domanda. Tre foto di tre cose che ti hanno colpito? Beh, sicuramente parlando adesso il ricordo della finale è fresco e quindi direi che la foto dell'infortunio di Kevin Durant e poi attaccato a quello di Clay Thompson è la foto di Kawhi Leonard che imita la sua risata davanti a una piazza di Toronto stragremita di persone anche con rischi di ordine pubblico per la pallacanestro, una cosa impensabile fino a una decina di anni fa, sono due fotografie che ci stanno. Poi l'altra fotografia secondo me sono le lacrime che scorrono di Anis Adetokumbo alla premiazione dell'MVP. Beh, certo, giocatore straordinario. Flavio, ma dal tuo punto di vista dove ha vinto Toronto? Cioè qual è stata la chiave che è riuscita a far saltare il banco al di là poi dei gravi dei gravi infortuni che sono sfortunatamente accorsi alle stelle dei Golden State Warriors? Ma c'è un detto americano che dice don't believe the hype, non credere troppo a tutto quello che si dice stia attorno alle cose. Credo che loro siano stati bravissimi a don't believe the hype. Fin dall'inizio della finale hanno avuto un approccio molto tranquillo, molto calmo, molto professionale. Hanno avuto le loro battute d'arresto che sono messo in inevitabile quando sei una matricola a quel livello. Hanno perso gara 2 in cui tutto sommato hanno giocato meglio che in gara 1. Hanno perso gara 5 perché chiudere una serie è difficile sempre, figuriamoci una finale, figuriamoci la prima finale. Però hanno sempre avuto davanti la big picture. La big picture era che la versione dei Warriors che avevano davanti per l'assenza di Durant praticamente in tutta la serie tranne 11 minuti e ancora di più, mi viene da dire, per il problema di Craig Thompson, sia quello che l'ha tenuto fuori da gara 3, quello che l'ha limitato in generale e poi l'ultimo colpo in gara 6. È chiaro che non è tutto lì, ma è altrettanto chiaro che con il vero Durant e con il vero Craig Thompson sarebbe stata completamente un'altra serie. Però Toronto l'ha giocata con una calma che normalmente non è degli esordienti. Io poi ti chiedo un parallelismo con Sassari e con Pozzecco che sarà probabilmente forse una bestemmia, però diciamo che in piccolo senti, ma forse anche la rotazione a 7 dei Raptors, come spesso io discuto con i nostri super esperti Marco Calverese e Francesco Bertoni, che come me sono degli appassionati che sono prestati al giornalismo, loro mi hanno detto, però secondo me la chiave di volta è stata questa rotazione a 7 che ha fatto vincere i Raptors. No, non sì, però questo non significa che secondo me se ne può ricavare l'idea che se tu fai la rotazione a 7 invece che a 8, a 9 o a 10, allora vinci l'NBA o il campionato italiano o qualsiasi competizione. Io credo che la fotografia più nitida sia, e qui ci potrebbe stare un parallelo con Sassari, pur essendo lontanissime le due cose, è che noi abbiamo sempre l'idea che è corretta di per sé, che sia necessario costruire piano piano, anno per anno, un certo tipo di realtà. In verità la cosa più importante è esserci per davvero in quel momento, con un gruppo che è ovvio che è più facile che sia gruppo con la G maiuscola se sta assieme da cinque anni, se ha già superato dei problemi, ma non è l'unica maniera possibile. Questo era un gruppo con la G maiuscola, non necessariamente perché tutti si amavano, non necessariamente perché erano trascinati da un leader maximo, perché diciamo come agitatore di folle, Kawhi Leonard è modesto, però si è trovato un gruppo di persone che in quel momento poteva fare delle scelte libere, come quella che ha fatto Nick Nurse, per esempio, di tagliare la rotazione. Forse tra cinque anni Nick Nurse si preoccuperebbe, ma se tengo in panchina a Germilini e poi perdo una partita, non mi diranno che, ma se faccio giocare Van Vliet anche quando sembra onestamente che non stia in piedi, ma non mi diranno che sto facendo giocare uno che non è né carne né pesce, che non difende, che è piccolo, che forza i tiri eccetera eccetera. Tipicamente l'allenatore è al primo anno a un certo tipo di forza. Figuriamoci l'allenatore al primo anno a cui è stato detto guarda, fai quello che vuoi, a patto che Kawhi Leonard, che quello che fai tu, dia a Kawhi Leonard una chance in più di considerare la possibilità di fermarsi qui a lungo. Il mix era ideale per Leonard, per Nurse, per Siakam, perfino per Jeremy Dean che non ha giocato, diciamo era ideale. Era una situazione in cui Jeremy Dean sapeva benissimo che non avrebbe avuto alcun interesse e alcuna possibilità di sbloccare la situazione facendo quello che ogni tanto si fa. E quindi credo che le due vicende Toronto e Sassari dicano che non c'è una maniera sola di arrivare al risultato e che non si può altrettanto e ancora di più prendere come modello Toronto o Sassari e provare a copiarlo perché non è non è il caso. Sicuramente, Flavio. Poi tra l'altro abbiamo già finito la stagione passata. Ecco, dimmi gentilmente qual è la squadra. Allora, noi abbiamo fatto prima una contata con Davide Pessina che è il tuo dio oscuro con cui fai straordinariamente le due telecronache. Davide, molto gentilmente, il 12 aprile alla vigilia dello start dei playoff abbiamo fatto tutto un breaking e ci ha seccato molto. Però su Toronto diceva, forse bisogna vedere. Toronto può essere una sorpresa però, vabbè, giustamente non credo che noi avremmo puntato un solo centesimo sulla vittoria dei Raptors onestamente. Però dimmi, qual è la squadra che ti ha deluso in ambito NBA quest'anno? Diciamo, Houston e Philadelphia sono due squadre che avevano la possibilità in una stagione così particolare, diciamo, presupposto generale. I Golden State Warriors a pieno carico e in buone condizioni mentali non sono, secondo me, battibili oggi o meglio. Non erano battibili ieri, perché i prossimi saranno comunque diversi anche se i nomi dovessero essere sempre quelli, cosa che è una possibilità, però non li conosciamo. Quelli di ieri fino a, diciamo, a questo 30 giugno con tutti i giocatori a posto e le situazioni a posto, secondo me non erano battibili. Però è ovvio che anche prima dell'infortunio di Kevin Durant, questa era una stagione particolare per la free agency, eccetera, eccetera. Dopo l'infortunio ha maggior ragione. Houston è stata la prima che ha avuto la possibilità di vederli senza Kevin Durant, sia pure solo per cinque quarti, però in quei cinque quarti ha fatto vedere i suoi problemi. E Philadelphia ha avuto sia in gara quattro che in gara sette la possibilità di battere davvero i Raptors. La gara sette dei Raptors complessivamente è stata una gara sette modestissima, con 39 tiri di Kawhi Leonard. È chiaro che tutti si ricordano solo l'ultimo. Però Philadelphia e Houston, se fossero state più squadre, e qui sembra una contraddizione rispetto a quello che abbiamo detto di Toronto e di Sassari, ma se fossero state più squadre forse invece è una conferma. Non è sufficiente avere più tempo assieme. L'importante è aver risolto i nodi. È evidente che i nodi di Philadelphia non sono risolti e quelli di Houston ancora di meno. Ce lo ha detto quello che è successo dopo la fine della stagione, ce lo diranno altri fatti che presumo vedremo nel futuro vicino. Flavio, senti, mi giungono dei rumors, io faccio una premessa, non sono un grandissimo esperto, diciamo NBA, seguo quanto posso, però mi dicono che la squadra che l'anno prossimo potrebbe dare filo da torcere a tutto, oltre a quelle che quest'anno hanno fatto bene, ma poi ce n'è uno. Però si parla molto bene degli Hawks. Ci puoi dare una descrizione di Atlanta che dicono in molti che l'anno prossimo, io devo essere sincero, sono un po' dubbioso. Mi puoi confermare questo? Posso confermare i dubbi, nel senso che Atlanta non è una squadra che possa giocare per il titolo adesso, però concordo se questo invece è l'assunto sul fatto che Atlanta sia una delle squadre che sta facendo tutti i passi necessari per mettersi in condizione di diventare davvero competitiva. Direi, per fare una fotografia, Atlanta è la Boston di questo periodo storico. Boston però dimostra che c'è una fase in cui tu puoi essere logico, organizzato, strutturato e fare tutte le cose per bene. Poi c'è una fase in cui, per come è fatta l'NBA, devi prenderti qualche rischio, riuscire a convincere qualche giocatore di un certo tipo di carattura a venire da te e non solo, perché se viene, ma poi come Kyrie Irving c'è un problema di rigetto. Quindi Atlanta, secondo me, sta facendo veramente tutto benissimo per arrivare, diciamo, fino al punto in cui è arrivata Boston, come posso dire, due stagioni fa. E poi dove sarebbe Boston senza l'infortunio di Award, senza il rigetto di Kyrie Irving, senza l'infortunio di Irving dell'anno scorso? Noi non possiamo dirlo. Diciamo, è evidente che c'è una parte che tu controlli e ti fa arrivare fino a un certo punto. E poi c'è una parte che non controlli e che magari fa vincere una squadra come Toronto, senza vissuto, e non fa vincere una squadra come i Boston Celtics con tanto vissuto. Gli Hawks sono ancora in una fase iniziale, non sono a zero, ma in una fase iniziale di questa prima parte del processo. Per chiudere il capitolo iniziale, io ti chiederei 650 cose, però ovviamente non possiamo... Dunque, l'anno prossimo invece per i Lakers, che anno sarà? Intanto dovremmo sapere chi è il terzo giocatore di riferimento, perché mi sembra chiaro che l'idea sia LeBron James e Anthony Davis, un terzo giocatore di riferimento, un nome gettonato, è Kemba Walker, ma indipendentemente che sia Kemba Walker o un simile Kemba Walker, più altri nove o altri dodici, a seconda di come uno lo voglia guardare. Alla fine decideranno gli altri nove o gli altri dodici. Non ho dubbi che i Lakers, a meno di circostanze indipendenti dalla loro volontà, saranno una squadra importante a Ovest. Poi fin dove possono arrivare lo determineranno appunto gli altri nove che andranno cercati con disponibilità economiche ridotte praticamente al minimo per la caratteristica delle operazioni Anthony Davis e Kemba Walker, o simile Kemba Walker. Quando vediamo il roster possiamo provare a dare un'idea, ma al momento non sappiamo veramente niente. Flavio, chiudiamo la parente, come diceva quel mio amico, dell'NBA e andiamo sui problemi, o sulle opportunità, secondo come la vogliamo vedere, di casa nostra. L'anno scorso circa, se non ricordo male, si è intervenuto in un bellissimo convegno organizzato dai Basket Knights, che tra l'altro nel pomeriggio avrò il piacere di vedere e di ascoltare il presidente Marco Tagliana, in cui tu hai spiegato, secondo me, in maniera esemplare, che cosa bisognerebbe fare per cercare di far sì che le squadre italiane, non voglio parlare del resto del mondo, concentriamoci del nostro paese, quello che dovrebbero fare le squadre italiane per provare a fare utili con una società di pallacanestro. Puoi, in pillola, lo so che è un discorso che tu sei andato avanti per 25 minuti e l'hai esposto in maniera fantastica, puoi spiegare gentilmente ai nostri lettori, alle nostre lettrici più che altro, come si potrebbe fare? Sembra una cosa che è irrealizzabile? In realtà il convegno era un po' più datato rispetto a un anno fa, non so, forse due, forse tre. Diciamo, in questi due o tre anni sono successe altre cose e personalmente ho approfondito ulteriormente la questione. Sono molto restio, non certo perché non voglia parlare, a dare la ricetta per fare utili. Io credo che sia un problema preesistente a questo livello, precedente a questo livello, ovvero sia fare la ricerca degli utili, la ricerca del profitto è una condizione non prescindibile per poter parlare di impresa. Questo non significa che se un'impresa non fa profitto deve chiudere o non è impresa, ma se un'impresa, meglio, se un settore programmaticamente dice, rivendica orgogliosamente addirittura di non fare profitti, non è un settore economico, è un settore che sta levando ricchezza, non la sta producendo e questo è un problema. Non solo e non tanto per quel settore che dicono i libri di economia è destinato naturalmente a estinguersi e a soccombere, ma è un problema anche addirittura per il sistema in un senso più ampio. Quindi io credo che la questione, tornando alla domanda, non sia il mago che vi dice come fare utili, ma sia per fare un'impresa, se stiamo parlando di professionismo, e mi spiace ma sono professionisti anche quelli che sono etichettati come direttanti nella palacanestro in Italia, se stiamo parlando di professionismo, la ricerca del profitto deve essere un obiettivo naturale. Se, come si fa per un'inveterata e secondo me anche un po' trita abitudine culturale, si continua a dire che nello sport non si fanno profitti, non si possono fare profitti, non si vogliono fare profitti perché per l'amor di Dio il denaro è il nostro nemico e lo sterco del diavolo, è inutile che stiamo a ragionare. Se è così è inutile che parliamo di qualche cosa, i fatti si sono incaricati e si stanno incaricando in maniera chiara di vedere e dimostrare un certo tipo di direzione. Se si vuole invece fare un ragionamento un po' più ampio, un po' più laico, secondo me non si può presumere, cerco di stare il più sulle generali possibili, che siano tutti così limitati e ottusi che non capiscono il principio a cui ho esposto io, che non è un principio di economia, non è un principio di economia ad alto livello, ma è il principio su cui si basa qualsiasi attività umana. È possibile che tutti quelli che operano nello sport scientemente siano contenti di non fare profitti almeno a bilancio? Forse la questione è un po' più complessa, forse la questione è un po' più da prendere da vari punti di vista e credo che ci siano delle resistenze a culturali e b personali a farlo per davvero. Io non sono nessuno e quindi non ho nessun motivo o interesse di costringere o invitare. Sono un amante della pallacanestro, lontano in questo momento dalla realtà della pallacanestro, italiana o europea, rilevo che a livello sistemico, da un punto di vista economico, questo sistema non sta in piedi. Poi se tu mi dici che è l'unico possibile, io confuto con forza questo, ma posso anche accettarlo, a patto che però poi tu non ti lamenti dicendo e non ce la facciamo, e per forza che non ce la fate, perché volete non farcela, entro certi limiti. Se voleste farcela, bisognerebbe riprendere un foglio bianco e cominciare a scrivere i tratti di un sistema che sia normale e nei sistemi normali chi fa profitti sta sul mercato, chi non fa profitti esce dal mercato. Assolutamente, concordo con te al 100%. Proprio di questi giorni, noi ieri di onoram.net abbiamo pubblicato, chiedo scusa, lunedì abbiamo pubblicato un articolo provocatorio o di provocazione, trova tu il termine più corretto, del mio caporedottore Donato Lubrano, che ti saluta tra l'altro. A presto. In cui lui dice, ma in base ai rumors che giungono, potrebbe essere la prossima una Serie A non a 18 squadre, tra l'altro mi permetto di dire una mezza follia, ma bensì a 14, che non sarebbe male per certi versi. Poi tocca vedere quali sono le quattro squadre che rimarrebbero fuori. Ma forse non sarebbe il caso, Fabio, di ridisegnare i campionati. Già partendo da conteniamo i costi, facciamo una cosa più a dimensione no profit, in teoria, dove noi stiamo andando. Quindi conteniamo i costi. E se non posso fare una Serie A perché non ho i mezzi, riparto come il buon presidente Marco Tajana, che ha preso atto e ripartirà dalla C Silver Gold. Ma questo per cercare di non dare queste aspettative roboanti che poi alla fine non si realizzano. Ci sono alcune parti, il problema non è confutare quello che hai detto tu o quello che ha detto Edoardo in quanto tale, ma ci sono alcune parti di questo discorso che mi convincono e delle parti che mi convincono di meno. Ma questo è irrilevante. La parte fondamentale secondo me è questa. È pressoché certo che Marco Tajana, per la sua caratura professionale, per la sua esperienza all'interno della palacanestro, è una persona che avrebbe tutte le possibilità di prendere in mano un'impresa che faccia palacanestro professionistica e mantenerla molto bene sul mercato. Nel momento in cui quello che ha fatto negli anni lo ha portato alla decisione che lui ha preso e che tu hai riportato, non possiamo però neanche presumere che allora questo sia il traguardo a cui vorremmo arrivare tutti, perché sennò tutti farebbero una marcia indietro di quattro categorie, non esisterebbero più le prime quattro categorie. Se la situazione è così, bisogna cercare, secondo me, di concentrarsi sugli aspetti generali. Se la situazione è questa, io dubito che sia questa perché è l'unica situazione possibile. C'è un problema di modello, cioè le possibilità teoriche dei singoli, delle città, delle squadre, dei club, dello sport in generale, la palacanestro, eccetera, eccetera, non si traducono in realtà. Senza fare un ragionamento più generale sul perché non si traducono in realtà, poi può succedere che, per esempio, magari una delle componenti è che in un bacino d'utenza come Legnano non è possibile sostenere, sostenere significa tenere nel medio-lungo periodo un'attività in piedi, sostenere un'attività che ha quei costi. La domanda è, è logico che abbia quei costi? Dobbiamo stabilire noi quali sono i costi giusti? Esatto. No, i costi sono stabiliti molto semplicemente dall'incrocio di due curve, umilmente chiamate domande e offerte. Perfetto. Semplicemente bisogna non tornare perché non ci sia mai stati, bisognerebbe, io credo, creare un sistema normale, normale, in cui i costi sono l'incrocio della domanda e dell'offerta. Certo che se uno offre dei soldi che non ha, quella non è l'offerta, o meglio, lo è nominalmente ma non lo è nel senso previsto. Stutturalmente, esatto. Esatto. Quindi è un problema di normalità, è un problema di recuperare. Non mancano, ho citato il caso di Tajana, perché non mancano le persone capaci di farlo. Assolutamente. Ci sarà mica bisogno che glielo spieghi io, semmai è il contrario. È Tajana, che fa il commercialista da 30 anni, che spiega a me che se vuoi tenere un'azienda in piedi non spendi i soldi che hai, non fai i debiti, non cerchi a tutti i costi di tenere in piedi quello che non sta in piedi. È lui che lo spiega a me. Quindi non è che glielo dobbiamo spiegare noi. È per quello che il problema di dire inaspriamo i controlli, facciamo scendere i costi, non è un problema di ridimensionamento, è un problema sistemico generale. Ma anche è metodologico, Flavio. Anche è metodologico. Sì, sì. Sì, ed è un problema che è anche viziato dal fatto che c'è comunque una parte di questo sistema che ha dei ritorni che possono essere diretti o indiretti, per cui riesce a giustificare la prosecuzione dell'attività. Facciamo conto anche che questi ritorni siano al 100% tutti perfettamente legali ed è una cosa che sulla scorta di molte risultanze è imprudente concludere. Naturalmente non sto dicendo che siano al 100% illegali, non è questo il punto. Ma se non sono ritorni diretti non si può parlare di investimenti diretti e se non si parla di investimenti diretti i sistemi non si sviluppano ma si inviluppano. Assolutamente. Come dice il mio sarto, non fa una piega. Flavio, chiudiamo adesso questa parentesi, facciamo le congratulazioni all'Umana Reier Venezia. Io credo, come ho detto anche ieri sera nella nostra puntata di tripla doppia, che è una cosa un po' caruccia che si fa in tre a quattro mani con questo sistema, la squadra un po' più schizofrenica d'Italia, diciamo per certi versi, perché fa una stagione regolare in cui potrebbe vincere tante, però Psy ne vince, però sempre soffre, poi vince il campionato in una maniera direi anche straordinaria, perché comunque c'ha dei giocatori straordinari. Facciamo i complimenti a Venezia e dimmi un po' che cosa pensi dello sbarco di Ettore Messina a Milano. Io penso, ho detto in tempi non sospetti che in Ettore Messina vedo uno che mi piacerebbe che facessi il primo ministro, quindi figuriamoci qual è la mia stima. Però, ancora una volta, non mi piacerebbe che facessi il primo ministro, perché ritengo che sia un mago che apponendo le mani al governo della nazione farebbe tutti ricchi, tutti uguali e tutti felici. Adesso non è al governo della nazione, ma al governo di un club sia pure importante. Non credo che sia uomo da miracoli, credo che sia un grandissimo organizzatore, perché ha una dote che non hanno tutti, che è quella di fronte a dieci cose, di riuscire a metterle in ordine di priorità da uno a dieci, molto correttamente, fare prima quella più importante, poi la seconda, poi la terza, poi la quarta. Non è da tutti. Non è da tutti, però... Tutto questo, anche pensando per esempio a quello che è successo a Toronto, su un campo da basket non si traduce necessariamente, e neanche mai necessariamente subito, in un tot numero di vittorie o in un tot numero di trofei. Questo non significa che allora bisogna aspettare dieci anni prima di poter dire qualche cosa. Però queste sono le due dimensioni. dove secondo me è imbattibile Ettore Messina è in questo. E questo bisogna che abbia il tempo oggettivamente di farlo. Certo. Naturalmente, naturalmente, facendo anche l'allenatore, è il primo a sapere che non può dire, vabbè, se per tre anni arrivo sesto in campionato, va bene lo stesso, perché nel frattempo sto mettendo a posto la struttura. No, nel frattempo sa benissimo che gli è richiesto, se le situazioni non cambiano rispetto al roster che ha e rispetto alla situazione della Serie A, gli è richiesto anche di competere in una certa maniera. Se questo significa che deve vincere il 100% delle partite in Italia, il 70% in Europa, credo che sia un obiettivo irrealizzabile. la sua difficoltà starà nel coniugare queste due cose. Chiudiamo la parentesi italica e diamo adesso una parolina alle competizioni internazionali per il nazionale. Tra l'altro, Flavio, come voi ben sapete, è presente su Sky Sport NBA, è il canale che l'emittente Sky ha dedicato e che dedica in maniera straordinaria. Ci sono dei documenti che sono spaventosamente belli e arrivano alle nazionali. Domani coach Marco Crespi, che è anche un vostro collaboratore, perché fa delle telecronache tassonomiche, shoot straordinarie, infatti parla poco, ma parla bene, vedrà il suo debutto come hit coach alla guida dell'Ital Basket Rosa, come amo chiamarla io, in un momento in cui il rosa nel nostro sport con i mondiali di calcio stanno andando tanto di moda. Che, diciamo, curio, noi possiamo fare a Marco oltre a sperare di giungere più in là possibile, sul podio magari? Ma quello di riuscire a trasferire una passione che non credo che la passione sia un merito, però la passione è una componente importante. Al netto di tutte le altre cose, se c'è una persona che fa un lavoro con passione, Marco, questo sono sicuro che sia percepito dalle sue giocatrici, ancora una volta, è il discorso di prima, ancora più esagerato ed esacerbato, perché qua parliamo di una squadra che fa tre settimane di raduno, o quello che sono, e poi si gioca neanche in sei o sette partite, poi saranno una o due le partite che detteranno le sorti dell'Italia, quindi è ancora più imponderabile per certi versi. Però mi farebbe piacere che la parte di quella passione che è già stata percepita dalle ragazze, che si vedesse anche in campo, poi se corrisponderà o meno a un risultato di tipo A o di tipo B, forse ci scordiamo che dipende anche dagli avversari, perché ci sarebbero anche loro in campo. Certo. Senti, e poi, altra grande esclusiva Sky, da fine agosto abbiamo i mondiali in Cina, con la nostra maglia azzurra, finalmente, che è ritornata dopo 19 anni di assenza. a briglia sciolta, Flavio, dimmi che cosa pensi, dimmi cosa è ragionevole tendersi, considerando che i nostri due leader primari che giocano in NBA, il Danilo Gallinari e Marco Beinelli, vengono da due stagioni, e Danilo credo, molto buona, Beinelli sempre costante, non straordinaria, ma sempre costante, e con un gruppo che potrebbe effettivamente darci qualche soddisfazione, anche, come dicevano i latini, il rebus, il girone, che effettivamente non è tra, da far tremare i polsi, tranne la Serbia. Prego. Il tipo di manifestazione che sono i mondiali, il tipo di formula, rende impossibile fare un pronostico in senso puro, al di là del fatto di dire che gli Stati Uniti presumibilmente ci saranno fino in fondo, e che ci sono 5, 6, 7 squadre che sono inferiori oggettivamente alle altre, poi il resto lì in mezzo, in quella formula, in quella situazione, a quel punto della stagione, oggettivamente, non dico che è sempre, che è tutto la stessa cosa, però poco ci manca. Io personalmente, apprezzo molto di queste manifestazioni, che ho avuto modo di seguire in questi anni, il processo in cui una squadra che non esiste, si forma, diventa squadra, e poi verifica, appunto in situazioni così estreme, e con un tempo così limitato, quanto sia squadra. quelle che lo diventano più delle altre, naturalmente hanno dei meriti, ma il processo è molto complesso, e sono certo che se si rigiocassero, gli europei o i mondiali, o le olimpiadi, due settimane dopo che sono finite, darebbero dei risultati, non completamente diversi, ma sensibilmente diversi. aggiungo che personalmente, neanche allo 0-0-1 per mille, mi viene la tentazione di dire, l'Italia vince una medaglia ai mondiali, che meraviglia la palacanestra italiana, o va al girone, diciassettesimo, trentaduesimo posto, disastro, anno zero, tutto da buttare, se far dipendere il risultato, sotto i termini di cui abbiamo parlato, di una squadra di 12 giocatori, che poi ha una rotazione principale a 8-9, e in cui dipende da 2 o 3 tipicamente, far dipendere da quello, nel bene o nel male, il valore di una roba di centinaia di migliaia di persone, mi sembra ridicolo. Divertirsi molto nel vedere che cosa succede, e prendere, possibilmente senza retorica, ma con grande partecipazione, l'avventura in tutti i sensi della squadra, è il modo con cui guardo io, e non posso imporre il modo con cui guardo io agli altri, ma io guardo così. Detto questo, la squadra è estrema, è estrema perché è ovvio che l'elenco dei giocatori, è un elenco dei giocatori molto interessante, perché la chimica dei giocatori è, mettiamo come minimo, molto particolare. Certo. È particolare, non perché non c'è il playmaker, non c'è il pivot, che è un concetto un po' antico, però una cosa, una cosa è non avere ossola, e non avere bovone, un'altra cosa è non avere due tipologie di giocatori che, per esempio, adesso se penso alla Sacchetti, alla Sassari di Sacchetti, che ha vinto lo scudetto nel 2015, senza Diner e senza Laval, è un po' più complicato giocare quella paracanestro. Assolutamente. E quindi sono molto curioso di vedere come Meo si adatterà alla squadra, non tanto la squadra si adatterà a Meo, secondo me questo avverrà in minuti, neanche in ore, ma come lui si adatterà alla squadra, che tipo di soluzioni riuscirà a trovare, perché questo è un altro motivo di interesse. E, ripeto, lo dico adesso, se l'Italia arriva a quarta o terza, è stupendo e ci divertiamo tutti molto, se arriva a ventiduesima, per favore non cominciamo a dire ecco, ma allora vedi che Torino, Trieste, Siena e la Nazionale e questo e quell'altro, la Nazionale non c'entra niente, è una squadra fatta in tre mesi, gioca una bella competizione, ce la godiamo tutti e siamo a posto così. Flavio, io sono a posto così e ti ringrazio tanto di questa tua straordinaria presenza che mi onora e ci onora. Speriamo da lì in futuro di poter fare una replica, come io ho anche minacciato a Davide Pessina di rifarne un altro Davide e si è dato intelligentemente, ma scherzi a parte, Flavio, mille grazie per il tuo tempo, per le tue parole, per le tue idee che ci hai dato. Ti ripeto, abbiamo bisogno anche di gente, io credo, nel nostro movimento che possa dare sempre spazio alle proprie idee e soprattutto gente che sappia effettivamente poi porle con garbo, con cortesia e con il modo che sai fare. Flavio, mille grazie. Buon basket a voi. Buon basket a te. Grazie Flavio, ciao. Ciao.